Ciao a tutti, sono Fabrizio Tacchinardi e questi sono i miei personali auguri a Pavia Play e dai suoi amici. Non voglio anche ascoltare idee da buttare giù, Pavia Play vi dà la voce Mr. High, per far uscire perché, perché Pavia Play, Pavia Play, Pavia Play qua giù città. Tanti, tanti auguri a Pavia Play e a tutti i suoi amici, un buon anno che possa essere un 2022 migliore. Ciao.